solo, solo il meglio per te solo il meglio ciao intanto, buon anno oggi ho pensato proprio in occasione del primo video dell'anno il nostro primo incontro ufficiale dell'anno nuovo di dedicare un po' di attenzioni alla persona più importante della tua vita che si, sei tu voglio trovarti un pochino di coccole con queste carezze e un pochino, un po' di massaggio ti spazzolano i capelli fanno un po' di brushing un pochino di caldo bello 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 viso e in generale voglio darti tutta l'attenzione e la cura e l'amore che ti meriti per iniziare al meglio al meglio questo anno ok voglio farti sentire voglio farti sentire amato amata e a volte non ci prendiamo abbastanza a cura di noi quindi intervengo io come prima cosa volevo chiederti se ti va un piccolo snack e qualcosa da bere un caffè, un tè, dell'acqua ok va bene allora ti do subito l'acqua questa fresca di frigo va bene? senti che bello suono un po' di un po' di ok guarda se ne vuoi altre dimmelo ecco tieni bevi un po' molto bene è importante restare idratati poi appunto prima di cominciare le coccole volevo anche offrirti questa Energy Ball piccolina proprio un piccolo snack al cacao e i lamponi ho pensato che visto che ti piacciono queste due cose metterle insieme ok ho subito pensato a te con questo ho le mani pulitissime ovviamente e questo mega cioccolatino annusa un odore guarda lo mangiare anche ora e all'interno a questa confettura a questa confettura di lamponi wow si ti ho notato solo metà perché è un po' impegnativo come dolce dopo quando vuoi altra metà assolutamente chiedimela pure come era come era buono e lì quando vuoi ne prendi un'altra metà è buonissimo ne sono contenta davvero solo solo il meglio per te solo il meglio sono il meglio ho notato che le nozze sono candela che ho messo in questo sfondo che ho ricreato per te che spero tu troverai rilassante quindi andiamo ad accenderla un odore un odore di casa elegante non saprei come altro definirlo ok adesso si prima di tutto voglio prendere questo pennello ecco ecco un rettello bello bello bellissimo ho in realtà due pennelli con me entrambi entrambi molto molto morbidi molto molto morbidi dimmi te quale preferisci quella sirena o quello blu e viola ok quella sirena benissimo allora comincio e ... 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 e spero abbia rilassato proprio il tuo viso dovresti sentire un pochino la pelle verso il basso perchè ha proprio rilassato tutti i muscoli molto bene, molto bene ora per continuare il massaggio il mio pancia voglio prendere un olio te lo faccio vedere perchè non bello di più spero di riesco a vederlo a questi fiori all'interno guardiamo se riesco a farteli vedere bene eccoli qua ho un bag veramente molto molto elegante e questa ripeto è lunghissima ora vado a metterti una cozza qui e una cozza qui e ho anche una cozza tra le mie mani quanto bello io vado a massaggiarti le tempie ok? le tempie le sopracciglia e anche e anche l'interno degli occhi per rilassare lo sguardo ecco qua ok puoi chiudere gli occhi se vai un pochino senti un po' gli occhi senti com'è fa un po' male però piano piano i muscoli eccetera esatto questo è chiamato trigger point quindi punto in cui un punto in cui premere che riesce a far rilassare appunto la riesce a come si dice a rilasciare la tensione scusami e poi un pochino anche la sopracciglia che la teniamo sempre teniamo un po' così e da solita è e un po' e un po' e un po' e un po' un po' un po' come va? meglio mi sono contenta di più adesso volevo farti un pochino anche un massaggio al collo così qui sotto però per questo prendo altro olio qui ecco eccoci qua eccoci qua ecco 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 un altro messo voglio applicarti un tonico in un di peggio occhi il tonico in questione è perfetto per la sera perchè è un tonico esfoliante con estratti di frutta quindi acidi della frutta ti leggo è un tonico esfoliante caratterizzato dalla composizione sinergica di estratti di frutta tropicale che contengono naturalmente alfa idrosiacidi ad azione delicata accelera il rinnovamento cellulare garantendo una pelle pulita compatta e luminosa si Smoove andrò ad applicarla con questo cosiddetto idrofilo e si e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi lo vado sia tamponare che a distribuire un po' strutturso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sfado anche un pochino con le mani. Grazie a tutti. 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 All'interno. Grazie a tutti. 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 è appunto una maschera che ovvio si usa principalmente sulle punte ma non è un problema si va anche da altre parti sulla lunghezza, un po' sulla radice da quando la uso veramente ho dato molto molto la differenza peggio molto ok quanta torrezione la spazzola ok e vado ok 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 la nostra sessione di coccole finisce qui ma a me piace tanto 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 tanti questa mi ha dato attenzione quindi in realtà lo faremo spesso se vuoi ok ok quindi io ti ringrazio di avermi dedicato del tempo e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio se aggiunta il tempo all'ora ti 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 appassare le luci e augurarti una buona 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 notte sognitor good night sognitor sweet dreams sweet dreams sweet dreams buonnoi vete show you gu 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 delante buonanotte buonanotte un bacione che le spero